Stai tirando un pesce? Tutore, tutore Sambèi! Ma tu quanti hai qua? Ho una tira? Guarda la canna come si fa! Ma che cosa è uno squaletto? Arriva, arriva! È uno squaletto! No, no, secondo me... Un San Pietro! Un San Pietro secondo me! Un San Pietro da 65 kg, vediamo! Io vorrei sapere dove sarà pizzato il pesciolino che si sta facendo tirare! Specificato! Eccolo qua questo San Pietro! Mantieni teso, non mollare! Un San Pietro! Bravo, bravo! Il San Pietro! Tutu, come ce lo cuciniamo? Ma hai fatto questa fatica! Che cazzo? Io credo è una cosa che... Ho dei unito! Due fili Tutu! Fammi un attimo, lui! Aspetta, ma... Ha unito due fili, cazzo! No, no, questo è proprio il filo della trecciata che si... Che si sta funzionando! Grazie.